Ma è di Cremona oggi, sì? E come si svolgerà la serata? Allora, quello che vorrei raccontarvi in merito a questa serata è che è una serata molto particolare, sostanzialmente un gruppo di ragazze, di ragazze molto talentuoso, ha riarrangiato i miei brani. Io alcune volte salirò col palco con loro, interagirò, canterò con loro, suonerò, e poi a metà concerto invece ci sarà un momento acustico per una voce preparato un medley speciale, unico per questa serata, e dopo insomma un gran finale. Grazie.